Gioia Sport.com il blog con tutto lo sport della tua città Siamo consci del fatto che è stato sicuramente fatto un buon lavoro fisico, è stato fatto un buon lavoro anche tecnico anche la squadra si è mossa sicuramente molto bene, la copertura degli spazi abbiamo lavorato anche sui rimbalzi per le seconde palle in questa settimana devo dire la verità abbiamo fatto molto bene Noi in settimana avevamo preparato questa gara proprio in questo modo avevamo preparato la gara perché sapevamo che attaccando avevamo studiato degli inserimenti quindi sia Tufano da una parte sia Caccero dall'altra volevamo proprio giocare senza punte quindi partendo da lontano e poi attaccare gli spazi al primo tempo devo dire la verità ci è riuscito molto bene potevamo andare in vantaggio e non è riuscito, non siamo riusciti a fare questa cosa quindi poi secondo tempo logicamente quando cominci a fare 15-20 scatti è normale che la condizione atletica cominci a mancarti Gioiasport.com il blog con tutto lo sport della tua città Gioiasport.com